Stop di due giorni al servizio di trasporto per anziani e disabili per via di una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare sullo scuolabus che collega i rioni al cimitero ed il centro cittadino alla piattaforma PitBat3 collocata sul litorale. La sospensione, come annunciato dall'amministrazione comunale, avverrà nei giorni 27 e 28 agosto.